Siamo qua in compagnia dei Modena City Ramblers che sono intorno a me. Intanto benvenuti a Sherwood, vi passo i microfoni. Grazie. Alcuni dei Modena City Ramblers. Alcuni dei perché tutti quanti non ci saremmo stati, avremmo dovuto fare un piccolo anfiteatro. Cominciare intanto con il presentarvi. Abbiamo Franco. Io sono Franco. Robby. Leo. Allora questa non è decisamente la prima volta che venite allo Sherwood Festival. Avete avuto una lunga esperienza qui da noi. Se vi dico Sherwood Festival, ora con tutti i ricordi che avete, con le esperienze che avete fatto, anche da pubblico magari, quali sono le cose più belle che vi vengono in mente? Beh sicuramente l'atmosfera che questo festival crea ed è molto bella. Quindi da tanti anni appunto, come hai detto tu, veniamo ospiti di questo festival e ci sentiamo, diciamo, a casa. Quando non ci chiamano, cioè quando abbiamo fatto qualche anno senza venire ci siamo un po' preoccupati. Mi hanno detto, cavoli non ci vogliono più allo Sherwood, vuol dire che siamo finiti. Invece in realtà poi dopo subito, dopo arrivava la chiamata perché rispetto, diciamo, ai festival italiani, questo probabilmente è il festival della musica che piace a noi. E che piace anche a noi. Voi siete operativi ormai da tantissimi anni, dal 91 se non sbaglio, 91-92, avete cominciato questo lungo percorso durante il quale sono successe tante cose, insomma avete incontrato tante nuove persone, avete girato il mondo. Il tema di quest'anno, dello Sherwood, è più che il tema, diciamo, il motto che ci piace avere, che ci piace seguire, è If I can't dance, it's not my revolution. La vostra rivoluzione, voi, come le realizzate voi? Beh, intanto sicuramente la nostra piccola rivoluzione personale è stata quella di iniziare a suonare un po' per gioco e arrivare a fare i professionisti della musica e questa è già una grande rivoluzione. Riuscire a fare un mestiere che ti piace, unire una passione al lavoro è la cosa più bella del mondo e credo che sia, dovrebbe essere la rivoluzione finale, quella culturale, insomma. E quindi già questa è una bellissima cosa. Rispetto invece alle tematiche che noi portiamo, che portiamo da tanti anni nelle nostre canzoni, ci piacerebbe che prima o poi ci avvenisse veramente quel salto, quella rivoluzione che, appunto, come dicevo prima, e parte prima internamente, però poi collettivamente diventa una rivoluzione culturale per cambiare un pochino il mondo molto più sostenibile rispetto a quello che viviamo oggi. Questo sarebbe, è la nostra utopia da sempre, probabilmente non avverrà mai, però questo non vuol dire che bisogna smettere di lottare come vediamo, non so, adesso, proprio in questi giorni nelle piazze di Istanbul e della Turchia. Esatto. Quindi comunque una rivoluzione che può essere fatta anche con la gioia, col sorriso e anche con il ritmo e soprattutto nel vostro caso con la musica. Sì, sì, quella è la cosa fondamentale. Bisogna essere molto forti e soprattutto bisogna avere molta coesione. Ci deve essere una coesione sociale che in questi ultimi anni ci stanno lentamente, piano piano, smantellando. E invece mettersi tutti assieme per un obiettivo unico è una cosa fondamentale e speriamo che questo possa ritornare, insomma, dal G8. Noi abbiamo avuto un'esperienza non diretta, ma quasi, diciamo, eravamo su una buona strada nel 2000 con le proteste, con questo movimento che si era creato e invece hanno zerato tutto un'altra volta. Sembra proprio fatto apposta per tenere sempre sotto controllo tutto quanto. E quindi farlo, noi lo facciamo alla nostra maniera, suonando. Ovviamente ognuno ha il proprio ruolo, il proprio destino. Noi abbiamo il ruolo di suonatori, non siamo sicuramente alla testa di nessun popolo, però vorremmo far parte di questo popolo che speriamo si riprenda non solo le piazze, ma si riprenda anche la cultura. Anche perché comunque mi piace ricordare che comunque voi siete stati e siete ancora adesso una delle colonne sonore che si trovano più spesso proprio in quelle manifestazioni, in quei movimenti che ci sono nelle piazze. Quindi penso che, come vi sentite voi essere in cima anche all'immaginario collettivo di quella fascia, questa generazione praticamente? È una bella responsabilità, però penso sia anche una bella soddisfazione. Sì, sì, sì. Parto dal fatto che, avendo iniziato vent'anni fa, e oggi magari succede di vedere non più i tuoi coetanei sotto al palco che ti seguono, eccetera. Magari queste nuove generazioni potrebbero essere i nostri figli, e quindi magari ci sentiamo anche un po' investiti di questa responsabilità, però il fatto di credere in quel che facciamo e nei messaggi che tentiamo di fare arrivare anche ai più giovani ci dà la forza per continuare, per fare quello in cui abbiamo sempre creduto. Prima, quando tu dicevi cosa vi ricordate appunto del festival di qui, insomma del posto, del luogo, io ricordo un anno che abbiamo suonato, ci fu un temporale pazzesco. Strano, è qua a Cervo domani. No, insomma, capita spesso. Però io ricordo con vero piacere quell'anno, perché il calore è la forza del pubblico che nonostante l'acqua rimaneva lì e continuava a pogare. E quindi queste sono cose indimenticabili, perché capisci che poi alla fine la voglia di stare insieme è più forte e vince anche le intemperie, insomma. Soprattutto le intemperie. Il vostro ultimo lavoro è uscito a febbraio di quest'anno, niente di nuovo sul fronte occidentale. Non c'è veramente niente di nuovo o qualcosa di nuovo c'è? È un disco di speranza o di più una relazione un po' oggettiva dei fatti, di come siamo in questa situazione, un po' pessimista? È un misto fra le due cose che hai detto. Ci sono tante cose oggettive, parliamo di tante cose successe nell'Italia, un po' un escursus dal risorgimento a oggi. Però nel domani noi comunque ci crediamo. Non è un disco negativo, crediamo è un disco positivo, anche perché in fondo noi raccontiamo poi delle storie, non è che ci inventiamo niente e non vogliamo neanche inventarci noi delle storie da cavalcare. Raccontiamo delle storie che sono successe, che sono un po' molto spesso dimenticate, che però sono molto simboliche, noi crediamo che siano molto simboliche, e degli anni di quello che è successo dal risorgimento oggi. Allora ci accorgiamo che forse veramente niente è cambiato, da quando mandavano i contadini del Piemonte a combattere in meridione i banditi, quelli che pensavano che fossero banditi, in realtà sapevano benissimo che era bravissima gente, erano la maggior parte contadini, non c'entravano niente, e li mandavano i loro corrispettivi piemontesi a massacrarli per cosa? Per tenere poi sempre lo stato di fatto del tempo, che sembra un po' quello di oggi. Quindi per quello che niente di nuovo sul fronte occidentale, cioè è sempre, la storia si ripete, si ripete sempre. Però noi siamo anche positivi perché ci crediamo, non siamo dei nichilisti, non abbiamo, non ci flagelliamo i maroni tutto il giorno dicendo come vanno male le cose. Vanno male però noi cerchiamo di, nel nostro piccolo ovviamente, nel nostro piccolo perché ognuno, ripeto e ci tengo a precisarlo, ognuno ha ognuno il proprio mestiere, non siamo dei politici, non ci vogliamo mettere in politica, non abbiamo le ricette magiche, non abbiamo, nessuno credo che ce le abbia, però cerchiamo di fare, di dire la nostra, di dire la nostra. Voi comunque siete più o meno, a parte qualcuno, venite tutti quanti dall'Emilia Romagna, o siete nati in Emilia Romagna, o comunque ci siete cresciuti. Del modo di essere, del modo di vivere, emiliano o romagnolo, perché non so neanche bene se emiliano o romagnolo, perché so che dipende, insomma, non siete tutti esattamente dalla stessa zona. Dipende appunto dall'Emilia e dalla Romagna. Esatto. Lo dice la parola. Cos'è che vi manca di più quando siete in tour, in giro per l'Italia, ma anche in giro per il mondo della vostra regione? Che cos'è che avete assorbito di più, che avete fatto più vostro e che vi piace da smettere? Guardando la pancia di Leo, mi avrebbe da dire il mangiare, però... E potrei rispondere io che sono di Modena Sud, ma molto Sud. No, io sono napoletano, praticamente mi sono trovato in questa regione che secondo me offriva e offre ancora, che si voglia dire, determinate possibilità a livello proprio umano. Cioè io trovo una differenza enorme tra mentalità e di popolo. Cioè alla fine il popolo è quello che conta. Noi siamo praticamente un agglomerato italiano, veniamo da diversi punti dell'Italia. Abbiamo un aretino nel gruppo e quindi un napoletano, un mezzo... Come potrei definirti? Quindi alla fine non conta tanto il discorso di dove nasci, no? Cioè volevo arrivare poi a dire questo. L'importante invece è sposare certe cose che possono essere comuni a tutti. Cioè ancora oggi, che siamo nel 2013, c'è ancora gente che parla di luogo di nascita come per ghettizzare una persona. Cioè una persona che è nata in un luogo, vale quel luogo. Non è così. Sì, infatti tra l'altro nel nostro disco c'è un brano che parla proprio di un matrimonio, di tre matrimoni che ci furono praticamente in cadore, multiraziali, matrimoni multiraziali. Quindi c'è il perché riservare la razza. C'era qualcun altro che parlava di riservare razza e razza ariana. Quindi alla fine sono importanti questi contenuti, secondo me, non tanto sud-nord. Bene, allora il tempo a nostra disposizione è finito. Io vi lascerei andare a rilassarvi prima del concerto di stasera. Questa sera, incrociando le dita, speriamo non pioverà. Ci sarà il sole, ci sarà caldo. Sarà un successo. Sarà un successo. Comunque vada. Ragazzi vi ringrazio ancora e a più tardi allora. Grazie a voi. Arrivederci a tutti. Ciao a tutti.